Ciao a tutti, buongiorno, buonasera a tutti, siamo qui con la scuola di ipnosi.net che potete vedere tranquillamente sul sito, siamo qui in compagna di Roy Hunter, famosissimo e con terapeuta statunitense, con il professor Volzidar Grilk dell'Ipno Center Grilk della Slovenia, con il dottor Tati, Antonio, piacere, piacere, della Sardegna Italia, e con il dottor Koccio, Piacesto Koccio, di Aceslav, della Modavia, con la base a Milano, e siamo qui per intervistare e per fare l'aggiornamento per quanto riguarda la nostra scuola. La nostra scuola prevede che ogni tanto ci riuniamo con famosissimi professionisti come Roy Hunter, e quindi, welcome, grazie. Bravo, 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 bravo. In queste due giornate che è stato qua, hai imparato anche un pochino di italiano. bravo, bravo, bravo. Come ti sei trovato tu? Io mi sono trovato benissimo, devo dire la verità. Sì, sì. Vabbè, allora, la cosa era un po' pazzesca, no? Perché c'erano anche tante lingue, allora, ancora una volta croato, sloveno e italiano, no? Però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, un po' di tutto, un po' di scherzi. Era bellissimo, no? No, I'm speaking about the translations, you know, a little bit of Italian, Croatian, Slovene, but, eh, in English, eh, in English, eh, in English, eh, anche in Inglese, sì, alla fine, no? E ce l'abbiamo fatta. You did a great job of translating the workshop. Yeah, thank you, thank you, thank you, yeah. But, yeah, yeah, and Italian, they've done it by them. Manuel? Manuel, sì, sì. Tu hai fatto un po' di traduzione la indietro? Sì, sì, ci ha fatto la traduzione dall'inglese all'italiano. Così è la veloce, io ho fatto in croato, così, alla fine, era un bellissimo corso. Sì, sì, come l'abbiamo fatto. Sì, sì, come l'abbiamo fatto la scorsa volta con Leri. Con Leri, ma sarebbe un altro molto famoso, che sarebbe il figlio dello scoprittore del metodo. Sì, l'idea è portare la gente importante qua. Sì, per fare aggiornamento continuo, perché non, la scuola non finisce nella sette giorni con ricette decatuta nazionale, ma continua con l'aggiornamento. non può finire così, perché altrimenti sarebbe riduttivo e non sarebbe professionale sulle nostre intenzioni in futuro. Esatto, esatto. Ok. Sì, sì, abbiamo detto anche, abbiamo già detto, benvenuto. Grazie. Abbiamo un voto per l'italiano, per l'italiano, per l'italiano markete. C'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. L'hypnosis can really help empower people when it's facilitated properly, and I have learned that there are some really good professionals here in my visit to Slovenia. Thank you, thank you, yeah. Vittorio vai. E che è la produzione, forse mi dice face. Io da mi chiede in italiano, mamma mia, mamma mia. No, no, no. Allora, posso dire così alla veloce, ha detto che l'hypnosis è molto potente e si può usare dappertutto, però nelle mani giuste, nelle mani giuste. e alla fine ha detto che qua ha conosciuto moltissimi bravi dottisti. Qualche dunque, diciamo, Vittorio è un dottista naturale. Io sono quello che ho studiato, ma qua abbiamo ancora un naturale. Dietro qua, ancora, Dio mio, non sono l'unico che ho studiato l'hypnosis fa. Siamo allo stato naturale. Stato naturale. E ci devono essere anche questi. Sì, sì. Ci dobbiamo essere. Se no, fondamentalmente l'hypnosis non può essere l'hypnosis. Allo stato naturale ci deve essere come il tuo stato, lo stato di Vittorio. Beh, è vero, è vero, è vero, è vero. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, 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 sì. Guarda che io sono collegato sempre con... Ah, è vero. Ah, ho collegato. E quindi riesco sempre a dire le cose imposte da... Ah, vabbè, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ok, magari un po' parole su come sei stato, su questo course? È vero, era un'esperienza? È vero, è vero, è vero, è vero. E ho considerato un'attività e un'attività di venire e insegnare. Parts Therapy, per me, è un'ottima forma di aiutare le persone a fare un'ottima due, anche dopo le altre tecniche che hanno fatto. Durante i anni, ho aiutato un numero di clienti con Parts Therapy, anche dopo la regressione, un'attività di causa, che solo partecipano aiutare i problemi. Parts Therapy ha aiutato a finire il lavoro. Vittorio, ha un po' l'accento, sai? Mi sono distratto con questo accento. Ha detto che sono distratissimo con questo corso qua, e sulle sue aspettative, intanto è con noi già una settimana, lo portiamo un po' in giro, si mangia bene qua, una bella compagnia di uno che vuoi di più. Bella ragazza, anche io. In quel tempo Roy si è anche innamorato. Ah! You like Nina? She's a very pleasant woman. Bravo! Si, qua ci sono molte, bella ragazza, bionde. Nina! Nina ha detto di venire molto bene. No, no. Che cosa ha detto? Nina, ok. Ha detto che è genu... 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 Come si potrebbe dire in italiano? Genu... 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 Ah, ok. Non lo so però. Ogni tanto mi sfugge quella cosa. Anche lei va in ipnosi, naturalmente. Molto, così. Con il proprio... Si lascia andare. E dopo Roy ha anche spiegato che lui lavorava anche con il classico approccio di ipnosi, no? Perché questo che abbiamo ieri e un giorno prima abbiamo studiato, si chiama PazTerapia, no? La terapia delle parti, diciamo è una strada un po', diciamo, non è proprio alla Omni, è un po' fuori, però interessantissima, no? Si, si, si. Si, una parte che mancava. E una parte che mancava. E questo mi piace. Per andare un po', diciamo... Esatto. Per andare un po' più professionale anche al di fuori di quello che era il nostro... Esatto. La linea. Adesso abbiamo un attrezzo di più, no? Che anche lui ha detto che qualche volta con la regressione sulla causa non ci riesci e dopo esiste questa PazTerapia. Un bellissimo approccio. Mi piace moltissimo e aspetto di lavorare specialmente sui fumatori, che a me non piacciono. No, no, no. No, veramente, no. No, no, no. Mi piacciono i fumatori, si. Però lo vorrei provare sui fumatori, si. Si, si. No, idea, mi ero dico che il primo rielo di lo che faccio con la PazTerapia, lo provare con i fumatori. Ma io li fai mace, io non volevo lavorare con i fumatori. E' un ex fumatore, quindi poterlo ho provato con loro, quindi potremo vedere cosa scelta. Ok, qualche domanda ragazzi. Ma su Roï, come si è trovato in questa parte della Slovenia? ed inoltre se hai intenzione anche nel futuro di venire in Italia per continuare questo nostro approccio all'ipnosi italiana si si, no, you have an invitation from Italian people to come to Italy if you are willing I'm willing si, magari in una grande città si può fare un corso che da due giorni a Milano diciamo si, è un bellissimo, no, va bene, allora, per essere sinceri questo corso allora, perché sul corso non abbiamo parlato di ipnosi, eh si, solo della terapia, no, qua bisogna che si distingue distingue, distingue, perché questo corso, diciamo, è per la gente che già fa, lavora si, che è dedicato più per l'ipno terapia più un po' per l'ipno terapia si, 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 si però è un bellissimo corso, no, l'abbiamo fatto, abbiamo riso tantissimo era bellissimo, a me piaceva tantissimo eh, adesso c'è un nuovo attrezzo per lavorare, no? si, si, è un strumento ma io, noi sapevamo che in se stesse questa parte era lì, no? però io non l'abbiamo applicata ancora, no? si, no, no, eh adesso è un strumento che puoi utilizzare anche tu, da si, 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 si so, no, we are speaking about that Italian market is big market, so but we explained also that we didn't speak about hypnosis because the idea was that already we know hypnosis, you know, because if you go out and speak about parts therapy to somebody that doesn't do hypnosis, it's a little bit strange, or not? what do you think? voice dialogue can be done without hypnosis, although incorporating hypnosis or a deep meditation state makes parts therapy far more effective for analytical people yeah, 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 no, but just, just a course to do it to a people they never try hypnosis, they don't know, they don't do nothing about hypnosis that's a little bit hard it's better to teach it to people who know at least something about hypnosis yeah, that was my idea, yeah, 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 okay, 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 yeah voglio dire nel senso l'opportunità di avere questa tecnica ci dà una, diciamo un vantaggio rispetto ad altri terapeuti che non hanno questa questo sicuro, questo sicuro, sì, 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 assolutamente quindi io incentivo a praticare questa tecnica esatto, esatto se noi ci vediamo un weekend magari più in là dopo aver provato magari ci riuniamo e... sì, queste sono opportunità che possiamo fare, ogni sei mesi noi facciamo il corso, noi facciamo il corso quindi l'occasione questa gratuitamente di ritrovarci e di rifare un po' la tecnica e vedere un po' i risultati anche degli aggiornamenti ovviamente sì, questi sono aggiornamenti perché noi diamo l'opportunità di ritornare in modo assolutamente gratuito le persone e quindi le persone che naturalmente hanno fatto già la scuola e di ripetere, diciamo, i risultati che abbiamo avuto con la paztherapia sì, 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 questa è un'opportunità che diamo alla scuola no, ok, perché Vittorio ho anche detto che quando hai molti strumenti in la tua scuola sei un migliore di hypnoterapia sì, e con questo strumento saremo meglio in il nostro lavoro sì, questo è buono io credo che ogni hypnotherapista deve avere una regressione per la causa e la terapia delle parti sì, 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 sì ogni hypnotista dovrebbe lavorare, o un hypoterapeuta, come, come, dipende dove si chiama, come dovrebbe lavorare con la regressione alla causa e più la pazza, la terapia delle parti, sì ok, che cosa ne pensa di i nostri amici italiani? come pensi di i nostri amici italiani? come sono? molto amici molto amici grazie 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 allora vorrei chiarire, naturalmente, che qua non si tratta di psicoterapia né di attività medica, ma è giustamente per i disagi delle persone io ti amo nella classica sì, allora, no, in psicoterapia non si mischia con la psicoterapia no, sono chiari giusto per chiarire che, naturalmente, nel nostro interno della scuola si hanno medici e psicoterapeuti che vengono, ci sostengono beh, America l'ha fatto già da un pezzo, no, che loro, come si dice, un lavoro, uno con l'altro si, ci sostengono se io qua si vengono, sai quanti dottori mi mandano i pazienti qua per lavorare certo, però infatti noi abbiamo all'interno tanti medici che ci sostengono e anche i prossimi corsi ci sarà il nostro amico che è un terapeuta medico ah, sì, sì si occupa di terapia dal dolore e, diciamo, ci fa le lezioni e questo ci dà l'opportunità di crescere ulteriormente questo è un vantaggio che ci dà la possibilità di essere ancora più professionali, ancora più decisi beh, c'è dato quel tocco finale che noi non lo sopravamo, no? anche sull'epinosi non si ferma a essere sull'epinosi l'epinosi vuol dire anche un percorso di miglioramento un percorso di perfezionamento e un percorso anche di essere aggiornati e informati cioè, non è solo l'epinosi è un percorso di, diciamo così, di miglioramento e anche c'è un lavoro di gruppo che poi ci fa crescere sì, è vero, è bravo, è bravo che ti volevo dire, no? io voglio avere questa scuola così questa non è una scuola di ipoterapia questa è una scuola della vita perché delle cose che non imparne altro succedono a tutti anche a me, a te e così via, no? e dopo con queste attrezzi si possono risolvere, Dio mio non è classico vabbè, il programma è per ipotisti e così via però quando entriamo dentro il soggetto mamma mia, si tratta della nostra vita come migliorarla, come andare avanti autoipnosi e queste cose qua fobie, paure risolvere ok ci sono un'ottima risolta del dolore ci sono il fatto di fare del bene agli altri questo ci fa in qualche modo è la più grande soddisfazione adesso viene sempre più riscato nel campo medico anche l'anestesia, l'analgesia quindi è vero è vero è vero per voi che non sapete come si chiama quella da Inghilterra ha apparturito ha apparturito William Kate la principessa Kate ha apparturito con ipnosi addirittura è uscita anche in Sardegna questo discorso di ipnosi che hanno fatto l'intervento l'intervento chirurgico però ovviamente quella è riservata alla parte medica ok l'hanno esercito il giornale in qualche modo la cosa sta uscendo fuori benissimo è vero è vero tutto il ruolo è proprio stato pubblicizzato è stato sbagliato la mente allora funziona perché sai è infatti si crede che sei appassionato ti piace l'argomento per la fine anche la gente matura dice cavolo c'ha più fiducia allora si lascia più andare è un percorso maturato l'intervento di dialog perché parliamo ora di anestesia anestesia e hypnosi è comunale è usato qui e abbiamo parlato anche di Kate è da inglese la mia famiglia la mia famiglia la mia famiglia la mia famiglia con l'hypnosi in le news anche anche mi sono affascinato sai quanto grande marketing è per noi è molto bello è un buon PR probabilmente all over the world assolutamente ok come ti piace Slovenia? non hai visto qui oggi andiamo oggi andiamo in cacere e anche un castello è molto bello facciamo delle foto erano al mare e non sapeva che postumia è 30 minuti dal mare è molto vicino siamo andati giù a prendere un po' di pesce così bellissimo si 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 ieri ho portato un po' in giro abbiamo visto Porto Rosè Porto Rosè Porto Rosè l'istria e poi così a un certo punto mi sono lasciato un po' andare e ho visto delle cose anche così con le donne ecco mi dici tu mi fai sempre piccolo è naturale fai bravo fai bravo guarda che ti stanno ascoltando i telespettatori ho visto il paesaggio al naturale il mare basta basta ok basta stiamo giocando stiamo giocando stiamo giocando con un uomo con un uomo quindi non so cosa succede è un po' strano qualche domanda ragazzi diciamo a dire qualcosa ok non come un hipotistico ero in Italia puoi raccontare anni fa anni fa e questo era dopo che ero un hipnoterapista ma prima della mia nuova mio figlio e io ero in Roma ah a Roma ehi ragazzi a Roma 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 e a Roma aquest Großel esterno ma la prima BS ho vinto spino a Francia anche AMIR in conosc續 la hè Phase in o Dave e vediamo con la Francia Don dress la della francia e non si ricorda magari quella era l'italia già non era proprio vicino non abbiamo più confini no 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 esatto esatto venite 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 al nostro corso si mangia bene una bella compagnia sì allora mi piace la parola perché io di solito non lo faccio come gli studenti però mi piace la parola di vittorio full immersion perché veramente si fa il corso mamma mia si fa solo l'ipnosi qua no si dorme poco si mangia tantissimo e l'altro è ipnosi no di solito non lo faccio no perché dopo diciamo con i miei altri corsi che vado incrovate così via alle 6 ciao non ci siamo più avanti abbiamo impostato tutto anche sul fattore della pratica non solo della teoria perché si ha bisogno di praticare e anche di conoscerci un po meglio tutti insieme esatto nascono anche rapporti professionali tra persone e poi ogni sei mesi noi ci rincontriamo sempre sia nella scuola ci rincontriamo oppure anche in questi seminari sì sì dove o anche addirittura agli incontri internazionali perché noi facciamo ogni anno al congresso di tutti gli puntisti d'europa ci incontriamo e ognuno di nuovo importa la sua esperienza o porta un suo scritto o quant'altro sì sì il prossimo corso di il prossimo diciamo congresso è previsto per aggero bellissimo bellissimo credo il primo maggio anche per noi è un segnale sicuramente positivo anche per portare per far conoscere meglio l'ipnosi e per portarla tra l'altro è importantissimo anche per noi perché ancora siamo in uno stato non del tutto chiaro è vero è vero purtroppo in Italia si avete incontrato abbiamo battagliato e poi già il fatto che poi è uscito questa questa cosa dell'ipnosi che è un fatto di questo intervento con l'ipnosi già ha aperto la vita a molte persone e quindi già la gente sta entrando più stiamo entrando nella mano sempre più verso l'ipnosi quindi la faccio una mentalità chiaro si stiamo credendo di più ma anche in più in più diciamo così si sta un po' ah ok si stanno formando le acque si stanno formando le acque si stanno formando le acque ok si stanno formando le acque si stanno formando le acque ok ok bene male qua e questa non è stata una verità la cosa alberta pubblicitaria no perché non si è troppo utile di non usarla troppo utile perché fai a fare il proprio affano oppure mistero delle cose esiste da migliaia di anni si è una cosa antica è una cosa antica è una cosa antica tramandata con dai nostri antenati delle cose antiche che c'è stato sempre stato un beneficio già dal periodo e quindi tu direi che è uno strumento che c'è stato dato per intervenire sul nostro diciamo stato di salute sui nostri comportamenti io tatti e coachu la facciamo gratuitamente per chi vuole farla però naturalmente non eccessiva se c'è tempo libero diciamo che è fatta per il nostro tempo libero per il nostro tempo libero lo abbiamo e però per il momento ci occupiamo di farla a chi vogliamo noi e anche giusto anche per la nostra crescita libero scientifico veramente anche per la nostra crescita Inoltre di voi, stiamo parlando in canale, imbarazzante, e lui, vada, purtroppo. Ok, diamo qualche consiglio, magari un'esercizio per noi? Il mio migliore consiglio riguardo l'ipnosi è adattare la tecnica al cliente, invece di adattare adattare la tecnica al cliente alla tua tecnica. Oh, questa è bella, questa mi piace, è un sbaglio molto, molto serio e anche, come si dice, tante volte lo fanno, che, allora, voi dovete fare l'ipnoterapia sulla misura del cliente, non viceversa, non fare il cliente che si deve adattare a voi, sì, sì, voi vi dovreste adattare al cliente, sì, la terapia dovrebbe essere proprio adattata al cliente, non viceversa, però ci sono molti terapeuti che fanno solo, ok, sentiti qua, chiuditi l'occhi, bababababa, come ha detto lui, scritto terapeuti, scritto terapeuti, scritto terapeuti, purtroppo esistono, mi piace questa espressione, l'ho imparata in questi giorni da Roy, lui ha detto che non si chiamano ipnoterapeuti, ma scritto terapeuti, o scritto tisti, o chissà che cosa, usano già il script predisposto, adesso ti senti bene, così via, e leggono quella roba là e alla fine la persona non ha nessun cambiamento, beh, questo non sono professionista, no, 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 però, guarda, hanno imparato così, non è colpa di loro, è colpa dell'insegnante, eh, Dio, però la prolepinosi è anche una cosa molto delicata, è una cosa molto, deve essere personalizzata, non è che si può usare come, è una cosa delicatissima, nel senso che bisogna essere personalizzata, no? Sì, 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 personalizzata, farebbe anche una cosa personalizzata, capito? Ma hai fatto la scuola sempre, la scuola serve per insegnare a dovere un metodo, bello, interessante, potente, professionale, di aiuto e di autoaiuto, poi il gruppo in tutti i modi è sempre un gruppo che ti fa sentire l'energia, l'energia possibile, il gruppo è un gruppo che in qualche modo ci dà sempre delle cose, delle cose positive, che ci trasmette sempre una sensazione presente, va bene, aspetta, 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 lasciamo un po', ok, non finisci mai No, no, ok, noi pensiamo secondi. Ma siamo allora molto e la merca! Non mi piace la tua visita, perché è una sinistra,velmente, la soluzione all ConfNI abbiamo un po' di monstri diorse poi delle scr450 delie, cocha domestica, dispostante… In sa cinza scoperta anni in disconvenza tra nelleслutri sto和sicede da nossas ottene statenze i nostri spiriti con quelli di pensare, dobbiamo sentire che questa tecnica taglia good that they can fit all their clients to the technique or simply find a script that will work yeah yeah I agree I don't use parts therapy with all my clients and I don't use regression with all my clients you must adapt to the client yeah yeah e questo ha detto no a 30 anni lui ha visto tantissimi altri professionisti perché Roy sta andando in giro già mamma mia tanti anni ha girato il mondo perché è molto conosciuto andate su internet ricordate un po' Roy Hunter lo vedete da tutte le parti no è il padre praticamente di questa terapia delle parti che si chiamano con il Charles Stevens lui ha detto che ha visto tantissimi questi artisti che provano a imporre la tecnica sul cliente e questo non si fanno perché si deve adattare al cliente no voglio dire imparate tantissimo e dopo un po' vedere che cosa serve al cliente no no sempre lo schede lo stesso scritto così quello come si è scritto lo stesso scritto con tutti i clienti no no non si fa così dio dio siamo tutti uguali ma due due fumatori non sono uguali tre neanche quattro neanche ma e ognuno c'è un'altra personalità e il vostro scopo di scoprire quale è ok no we are not getting mad we just yeah it's yeah because when we spoke we get emotional yeah about hypnosis and those things very well ok yeah you you I would like to say that my although I've written several books that are used in many hypnosis schools probably the most comprehensive one yeah with multimodality is the art of hypnotherapy it's available from Contos publishing and it's used in many hypnosis schools around the world solo un attimo ragazzi e dove sta no volevo mostrare questo libro volevo mostrare questo libro anche questo è un altro libro lui lui prima parlava di un altro no which one is it the art of the art of hypnotherapy ah si un bellissimo libro purtroppo in inglese magari lo facciamo anche in italiano si è dell'arte della hypnotherapy una bellissima cosa però oggi qua ci ha portato sul corso perché abbiamo parlato della terapia delle parti questo libro qualche anche potete vedere su amazon chissà dove no è un bellissimo libro compratelo noi l'abbiamo fatto qua per i nostri che erano sul corso e si lo ha scritto un più lungo di levi bio e quindi per driving version I also have a book The Art of Hypnotic Regression Therapy, which I co-authored with a clinical psychologist. Lui ha scritto sette libri, no, e c'è ancora uno The Art of Regression, The Art of Hypnotic Regression. Ah, uno ha scritto con un molto noto psicologo americano, e questa è bella, perché eroi che cosa adesso fanno loro, anche in America, stanno mettendo il bridge, il ponte, lo stanno stabilendo, 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 stabilizzando, fra psicologi e ipnotisti, no, e proprio l'hanno fatto con quel libro, l'arte di regressione, no, perché lo sappiamo che quest'anno è molto ultima nel nostro lavoro. Si, loro collaborano molto con le psicologi, no, si, 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 è una comune la di U-Mio, non è detto, allora, se lui vede che, diciamo, la terapia non è andata per lui per l'ipnosi, lo manda al psicologo, e viceversa, se il psicologo vede, ok, io non so fare l'ipnosi, con questo modo, nemmeno, non è anche da l'epidemia, ma anche da l'epidemia, anche da l'epidemia, è un buon po' di edificio, no, stiamo tutti su quel livello, no? Sì, sì, spero che i miei libri siestano trasladati a l'Italia. Sì, 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 questo succederebbe, perché è un grande mercato, in Italia, quindi, per esempio, persone sono interessanti a hipnotistica in Italia, potreste non, magari questa è la vita perché'ela specifica per la terapia, ma la arte della ok diciamo ciao grazie a tutti quanti andate sulla pagina e guardate un po' in giro chi è come se è famoso o non è famoso e così via però veramente ha girato tutto il mondo con queste è un insegnante veramente bravo ragazzi italiani e ragazze ciao ciao ci vediamo alla prossima venite alla scuola mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.